Vi ricordo che l'unico modo per temare la One Horse Band online è il momento di andare su Facebook e aggiungere il vostro like con la pagina One Horse Band oppure venire più tardi nell'acoustic stage. Grazie per la visione 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 One Horse, One Horse, un bel applauso, forte, forte, forte